Il Partito Democratico della provincia di Ragusa, dopo le dimissioni del segretario Giovanni Denaro, che tutta l'Assemblea ha ringraziato per l'impegno profuso, ha approvato all'unanimità la costituzione di un coordinamento, organismo che è stato chiamato a reggere il partito da cui si è nel prossimo congresso, che verosimilmente si terrà a giugno. Il sindaco di Gerratana, Lino Giacquinta, è stato quindi nominato responsabile del coordinamento, un ruolo che di fatto in questo lasso di tempo risulterà analogo a quello del segretario, un organismo formato dalle figure istituzionali che il partito esprime sul territorio ed è rappresentante delle varie aree. E dunque, oltre al sindaco Giacquinta, anche i colleghi Filippo Spatari e Peranzo Muragli, poi la senatrice Venera Paduile, deputato Nello Di Pasquale, presente provinciale del PD Mario D'Astro, oltre a Federica Giadone, Pippo Di Giacomo, Concetta Fiore e Nanni Frasca, sono onorata, ha commentato lo stesso Giacquinta, per la fiducia che mi è stata riposta da parte dell'Assemblea e dunque mi impegnerò al massimo in vista delle sfide elettorali che il partito sarà chiamato a sostenere dagli appuntamenti per le amministrative a quello più a breve scadenza delle politiche.